Salve, questo è l'ufficio oggetti smarriti, siamo qui per aiutarvi. Per oggetti di piccola dimensione premere 1. Per oggetti di grande dimensione premere 2. Per esseri viventi premere 3. Hai scelto esseri viventi. Per vegetali premere 1. Per funghi premere 2. Per protozoi premere 3. Per batteri premere 4. Per animali premere 5. Hai scelto animali. Per vertebrati premere 1. Per invertebrati premere 2. Hai scelto vertebrati. Per rettili premere 1. Per uccelli premere 2. Per anfibi premere 3. Per pesci premere 4. Per mammiferi premere 5. Hai scelto mammiferi. Per ovipari premere 1. Per vivipari premere 2. Non hai effettuato nessuna scelta? Si prega di effettuare una scelta. Per ovipari premere 1. Per vivipari premere 2. Non hai effettuato nessuna scelta. Arrivederci. Per evipari 4. Grazie a tutti